bentornati signori su wonder church channel siamo a un mese giusto dal mio infortunio alla caviglia quindi è un po' che non mi vedete ma sapete perché è chiuso in casa caviglia spezzata ok siamo ritornati sulla scena perché non potevo mancare a questo appuntamento rally coppa valtellina berbenno un po di clip sentite anche sotto il rombo di suono e quindi ragazzi si stacca nella si sempre arriva rava nuova a già Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.